Ciao a tutti e volevo chiedervi se avete voglia di imparare l'inglese. Oppure, hai mai sentito qualcuno che lo sta imparando, ma più velocemente di te? E tu vorresti impararlo ancora più velocemente? Sei stanco del corso degli istruttori e degli insegnanti di lingue? Vuoi imparare le chiavi che ti permettono di studiare l'inglese da zero per raggiungere i livelli più alti? Vuoi imparare nel momento in cui vuoi, quindi qualsiasi momento, notte, giorno, qualsiasi ora, e senza rispettare le scadenze richieste dall'insegnante? Il corso che ho preparato fa per voi, per portarvi tutto, tutto quanto su l'inglese e come le sue regole fondamentali. E voi potrete partire da zero ad essere esperti nella lingua inglese. Quindi, se volete andare a vedere o a iscrivervi al corso, dovete andare nel link che vi lascio sotto il video. Ora, questo schema che vedete qui è il riassunto di tutti i video che ho fatto, che ho tradotto dal creatore Feras Elmoner, dal, l'ho tradotto in italiano all'inglese, quindi dall'italiano per imparare l'inglese, e come vedete nella seguente immagine, rappresenta le varie situazioni e regole per imparare l'inglese. E quindi, io vi invito a controllare nel link che vi lascio qua sotto, sotto il video, per iscrivervi e vedere tutti i miei video in cui insegno l'inglese. e quindi qui spero che voi andiate a controllare nel link e vi saluto.